allora saluti a tutti benvenuti sul canzone natale oggi video di indiretta oggi vi mostro come giocare a granny con il modo di cyberhacker lo siediamo qua potete mettere le modalità che volete in questo caso easy vedete qua easy extreme ad normal easy e pratic e poi le opzioni darker extra box music e nightmare questo è l'ultimo music il primo grani puoi scegliere il personaggio che vuoi gregni e grampa oppure entrambi e poi la qualità lenta media o veloce andiamo avanti noi facciamo che aspettiamo che acceda questa è la prima volta che faccio con il video ricorre code non ce l'ho mai trovato ecco qua qua vedete c'è la maschera lo facciamo mettiamo la god mode cominciamo a sponare qualcosa qua allora cominciamo a sponare qualche granata ok ora aspettiamo che carica scusate i rumori perciò la televisione accesa non è spenta ciao come lina non è un video è un come cacchio ci venta carica tutto cacchio ok ragazzi siamo al primo giorno adesso non ci resta che chi giochi a grani si e grani 1 2 non sono più grani 1 perché sponiamo sponiamo un sacco di bombe ora con queste bombe sponate ma chi vede? ne prendi no no pigliamone una vedete si procede così ma chi vede? saliamo al piano di sopra no che non mi vede qua vedete c'è già la vecchia c'è già la vecchia la vecchia me è giro la vecchia me è vera la vecchia me è vera la vecchia me è vera ma è chiuso ti ricordo che è chiuso bella bambina è fatta morto non vuol dire il creaturo che sta dicendo ma come fai a mordere questo coso? sparalo sparalo così la Anna muore anche lei granny lasciami in pace ora spagniamo un bel fucilotto così possiamo sparare facilmente in creatura e lei cosa ce l'hai? slendrina 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 sta urlando sta grigando slendri stendrina adesso per mettere la cosa facile raga ma io ho giocato a granny nella vita reale qua c'è un giorgio con granny eh sì vi ricordate il video? granny babbo natale granny 1 nella vita reale 2 io ho fatto 2 non lo so sì vabbè cosa mi serviva? il vaso allora mi servono la porta la porta la torta come la torta tu hai detto la torta? perché non serve più la torta? ok comunque mi serviva si porca la torta ma la torta la torta ci va la handwilm il crowbar il bridge ma che branch e vediamo pure un video con snapchat snapchat cosa che mi serviva cosa che mi serviva snapchat 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 quale chiama lui con quello lo faremo in un video un video con snapchat 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 con i basta se non ti trovi il video tranquillo certo quello e con grand faremo di nuovo se ne vuoi davanti alle palle ehi alle palle e si toglie si sta inseguendo ehi ehi poi a sparare ahhh scusate proprio delle pinze esplosive non so che sia successo grenny basta e seguire adesso mettiamo la ruota facciamo salire sulla grata e poi fuggiamo si che con grand si comincia a fuggire ok 3 2 1 via spero tanto che il video vi sia piaciuto lasciate un commento e ciao e farmi il video con quello ciao ciao farmi il video con snapchat ciao ciao ciao